Buona giornata amici oggi è venerdì 5 novembre 2021 come sempre ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV leggeremo insieme come sempre il resto del carlino del Corriere Adriatico daremo un'occhiata alle notizie più importanti ma prima vediamo qual è il santo del giorno e poi il meteo il santo del giorno è San Guido Maria Conforti un sacerdote di Parma nacque nel 1865 e morì nel 1931 fu arcivescovo fondò la società di San Francesco di Sales e fu animato da un particolare spirito missionario e per quanto riguarda il meteo invece vediamo che oggi sarà una giornata diciamo così in prevalenza asciutta con una nuvolosità variabile in serata ci sarà qualche pioggia attesa soprattutto sui settori meridionali della regione vedete le nuvolette un po' di sole un po' di nubi comunque non sarà una giornata particolarmente piovosa e quindi diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali questa mattina a partire dal resto del carlino lo vediamo qui in sintesi pugni e sputi agli infermieri e caos un nuovo fatto di cronaca al pronto soccorso dell'ospedale di Pesaro e poi una notizia forse in attesa hotel cruiser colpo di scena nell'asta c'è stato un improvviso rilancio di oltre 6 milioni la partita dell'asta dunque rimane aperta altre notizie ci sono i premi per i ristoranti con i piatti più originali e poi ancora tribunale belloni fissa l'obiettivo tribunale per quanto riguarda il restauro le opere di ristrutturazione belloni fissa l'obiettivo per via san decenzo che dovrebbe essere riaperta per natale sullo sport abbiamo i biglietti venduti per la vis per il prossimo incontro con la vis sono 550 mentre banchi per il basket porta tutti a cena per fare gruppo sul corriere adriatico l'apertura è dedicata al fatto del pronto soccorso picchia medici e infermieri e poi san decenzio tra dieci giorni si riapre la stessa notizia che riguarda il tribunale le tre notizie i tre richiami a centropagina a pesaro un dramma in mare è morto un pescatore e poi un bullo un bullo ventenne che se la fa con un ragazzino per chiedere un riscatto ma poi viene arrestato e a mondolfo un ciclista sportivo in discesa finisce contro un'auto e poi per quanto riguarda invece fano ma anche tutto il territorio vediamo a fondo pagina un richiamo per una notizia importante fano grossetto lavori conclusi in anticipo ed è quella quel tratto chiuso tra bellocchi e lucrezia che ha destato tanti problemi per la viabilità cittadina in questi ultimi tempi restiamo dunque sul resto del carlino apriamo il giornale e vediamo come la notizia di cronaca dell'ospedale del pronto soccorso venga sviluppata ubriaco prende a calci e pugni gli infermieri terrore al pronto soccorso due i feriti protagonista è stato un 23enne trovato dal padre in stato di semi in coscienza al parco all'arrivo in ospedale si è ripreso ed è diventato letteralmente una furia a pagarne le conseguenze una giovane sanitaria e un collega che ha riportato la frattura alla spalla oggi ci saranno manifestazioni di protesta per questi continui episodi di violenza che si fa che si ripetono nei pronti soccorsi dei nosocomi e c'è anche una dichiarazione del primario gnudi ha sputato anche contro di me ha dichiarato è un inferno non si può andare avanti così l'ultima chiamata nessun medico viene più al pronto soccorso e quelli che ci sono cercano di andare in altri reparti aumentate gli stipendi per attrarli è un po l'appello che si fa per cercare di avere personale un organico completo funzionale ai pronti soccorsi e poi c'è anche un altro fronte aperto dal carlino oggi summit per le guardie mediche ma i rinforzi non ci sono ed è alcuni giorni che assistiamo ad una evidenza per la carenza di personale medico nei reparti più problematici dei degli ospedali anche territoriali il virus sta circolando sempre più veloce basta con le scuse correte a vaccinarvi e l'analisi del primario della divisione di malattie infettive dell'ospedale di torrette ma poi ci sono ancora polemiche per quanto riguarda le evidenze dei no green pass a pesaro si contesta un manifesto che è stato affisso in diversi punti della città sono i manifesti dei no green pass che dicono insomma obbedire non è una soluzione al problema l'amministratore dica che è la società che affigge i manifesti dice non ci sono capitate richieste simili in altre zone so che la gente protesta ma è tutto regolare insomma ognuno ha la sua libertà di espressione l'omaggio ai ragazzi del 99 morti in guerra ieri festa delle forze armate si sono tenute manifestazioni un po in tutte le città a ricordo anche della prima guerra mondiale e a pesaro si è svolta una cerimonia significativa a palazzo almerici c'è stata la toccante commemorazione delle lapidi in onore di 12 giovani che sono morti durante questo conflitto drammatico che ha sconvolto i tre anni del primo del secolo antecedente del secolo passato nel nostro territorio loro amavano più di tutto la pace è stato dichiarato qui abbiamo una foto di tutti gli enti di tutti i rappresentanti degli enti delle associazioni presenti alla commemorazione del 4 novembre festa delle forze armate e sull'altra pagina invece abbiamo il fatto di cronaca drammatico che è confluito con la morte di un pescatore si tratta di un tunisino di 26 anni la tragedia si è consumata poco dopo l'alba di ieri a bordo del peschereccio orca c'è anche il racconto del comandante di questo peschereccio si chiama cristian domenicucci abbiamo fatto di tutto ha dichiarato per salvarlo su come poi si sono svolti i fatti indaga la procura ed è stata disposta all'autopsia l'incidente si è verificato intorno alle 7 e 30 mentre il peschereccio una barca di pesca d'altura lunga 23 metri stava gettando in mare le gabbie per la pesca si tratta di una tecnica che si avvale di scatoloni di ferro molto pesanti che vanno sul fondo e vengono trainati dai motori non si sa per quale ragione il ragazzo sia caduto in mare ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarlo tribunale via san decenzio riaprirà a natale insomma questo almeno è il poco il minimo che si può fare per salvare le aziende i commercianti della zona strada chiusa un mese fa a tutela della incolumità pubblica le pareti dell'edificio verranno messe in sicurezza per evitare ulteriori distacchi secondo le stime almeno prima di natale si dovrebbe ripristinare la viabilità in sicurezza mentre resterà chiusa ai pedoni il marciapiedi di via san decenzio questo lo conferma l'assessore enzo belloni che ieri era presente ad un sopralluogo da gennaio ha detto subito dopo le feste partirà l'altra parte dei lavori e questo invece è l'articolo che riguarda l'asta per la vendita per la cessione dell'hotel cruiser un rilancio inaspettato forse perché si pensava che l'asta si fosse conclusa con l'offerta di 5 milioni e 420 mila invece ieri il colpo di scena un altro rilancio da 6 milioni e 100 mila euro a mettere sul piatto quasi 700 mila euro in più un misterioso albergatore spero di essere solo ha detto quest'ultimo questa volta quell'albergo mi piace ma mi pare che ci sia un'altra cordata insomma staremo a vedere come andrà a finire questa vicenda e veniamo sulla pagina di fano dove si parla del caro vita pane alle stelle ebbene gli agricoltori tornano al grano se per i consumatori questo è un nuovo problema invece per i produttori finalmente si può respirare ed era da tempo che gli agricoltori avevano una resa veramente insufficiente per quanto riguarda la loro produzione una volta si vendeva il grano a 29 30 euro al quintale invece oggi è risalito ben 55 quindi veramente per i produttori per gli agricoltori che fanno il lavoro più duro si respira i nostri produttori hanno dichiarato le categorie possono trarre un po di benefici da questa rivalutazione però vedremo insomma come poi le categorie quelle più indigenti per un bene di così primaria necessità riusciranno a reagire e ci sono polemiche politiche per quanto riguarda l'assessorato ai lavori pubblici del comune di fano c'è un fuoco che si concentra contro l'assessore fabiola tonelli per quanto riguarda una goccia che ha fatto traboccare il vaso secondo le opposizioni la rinuncia a partecipare al bando sulla sicurezza stradale pubblicato dalla regione marche che probabilmente a fano avrebbe così concesso 100 mila euro l'assessore ha minimizzato questa cosa mentre invece le opposizioni vanno giù duro oggi sul resto del carlino c'è l'udc che ha detto grave non parteciparvi e chiede le dimissioni dell'assessore bellocchi lucrezia lavori verso il traguardo fanno grosseto l'assessore regionale baldelli che ieri ha compiuto un sopralluogo con i tecnici dell'anas nel tratto oggetto dei lavori dice ancora pochi giorni e la strada tornerà pienamente fruibile con il ripristino della velocità del limite di velocità di 110 chilometri orari dunque è indirittura d'arrivo il cantiere sulla fano grosseto lo ha annunciato appunto baldelli che ieri mattina ha verificato di persona la situazione igiene ambientale scioperi e disagi l'aset dice che si potrebbero verificare possibili problemi nel settore della raccolta anche in città comunque saranno garantiti i servizi essenziali lo sciopero è stato proclamato per l'intera giornata di lunedì 8 novembre assegnata la cittadinanza onoraria al militignoto ieri con una bella cerimonia nella sala verdi del teatro della fortuna il sindaco ha consegnato ad un militare che per l'occasione ha indossato la divisa della prima guerra mondiale una pergamena con la con la cittadinanza ordinaria ebbene una bella cerimonia una bella cerimonia a cui hanno partecipato anche gli studenti del polo 3 che hanno poi proiettato hanno poi elaborato fatto e proiettato un docu film sulla sulla vicenda e hanno letto delle poesie insomma è stata una partecipazione sentita ed emozionante il carnevale intanto si fa promozione si fa di se stesso promozione in diverse parti della città venerdì 29 ottobre sabato 30 ha partecipato al carnevale di verona dove ha sfilato nella centralissima piazza bra e domenica 31 si è ricato invece a roma cine città dove nel mese scorso erano già state portate nove opere dei maestri carristi ispirate soprattutto ad halloween che era proprio di attualità in quel periodo e ieri è stata invece presentata la nuova edizione della mostra dell'olio e dell'oliva di cartoceto la cartoceto dop per quanto riguarda l'olio al decollo la manifestazione più attesa dedicata all'olio la presentazione della kermesse nella sede della conf commercio le due giornate clou si terranno domenica prossima e il 14 novembre e ci sarà anche un cartellone del format festivaliero della rassegna è stato creato su idea del sindaco enrico rossi e si è sviluppato anno dopo anno e sul carlino potete leggere poi tutto il programma di questa manifestazione che ha molte iniziative di intrattenimento sulla pagina di urbino c'è una rimostranza del sindaco gambini che rimprovera alla regione di aver affossato l'assemblea dei sindaci il sindaco va giù durissimo sulla gestione dell'organismo da parte di giuseppe paolini che tra l'altro è anche presidente della provincia pretendo risposte sull'ospedale di urbino voglio saltamartini in consiglio comunale ha dichiarato il sindaco della città ducale e quindi chiede risposte alla regione soprattutto sul tema della sanità sulla funzione sulla rilevanza che assumerà nella progettazione complessiva del piano sanitario l'ospedale di urbino abbiamo l'impressione che non si voglia investire replica così l'assessore alla sanità elisabetta foschi seminiamo dubbi per il bene di tutti università di urbino al centro della settimana della sociologia studi su come contrastare le fake news un tema di particolare attualità soprattutto per chi frequenta spesso i social nel mondo virtuale dove c'è di tutto ci sono anche false notizie ancora sulla pagina del resto del carlino dedicata a fossombrone vediamo che sul turismo avevamo scelto bene lo dice l'ex assessore mei che manda frecciatine al vice sindaco chiarabilli la nuova amministrazione aveva la possibilità di cambiare però insomma dato che ha confermato il rapporto con la conf commercio vuol dire che magari la scelta che noi la passata amministrazione abbiamo fatto non era non era tanto sbagliata e diamo un'occhiata anche al corriere adriatico dopo aver visto la prima pagina lo sfogliamo all'interno e ritroviamo l'articolo di cronaca sul fatto di violenza dell'ospedale del pronto soccorso dell'ospedale san salvatore picchia medici e infermieri sotto l'effetto di alcol e droga un giovane dà in escandescenza al pronto soccorso il direttore gnudi una notte di inferno e c'è anche un'attestazione di solidarietà da parte del direttore generale Maria Capalbo siamo vicini ai sanitari coinvolti e fino alla fine in servizio Marche Nord annuncia anche iniziative presso l'autorità giudiziaria in merito all'aggressione avvenuta insomma si procede anche per via legale tribunale i lavori in due steppe l'urgenza ora poi si ripartirà dopo Natale è stato raggiunto l'accordo con il ministero per mettere in sicurezza strada e palazzo Belloni afferma confermata la volontà di riaprire via san decenzio entro metà mese metà mese quindi metà novembre ci siamo quasi pronto il nuovo asfalto presto la riapertura questo è l'articolo che riguarda invece la prossima fine dei lavori sulla superstrada Fano Grosseto in questo cantiere che si è prolungato assai e che ha causato non poche difficoltà al traffico specialmente quello che procedeva da mare verso monte appunto sulla grande arteria tragedia a bordo di un peschereccio un giovane muore i compagni sono sotto shock ieri mattina a largo di pesaro inutili i soccorsi non si sa ancora lo stabilirà come abbiamo detto l'autopsia se il decesso è stato dovuto a malore o a caduta in un caso di morte sul lavoro che però si aggiunge ad altri infortuni e decessi che si sono verificati in questi ultimi tempi vediamo poi l'anmail come ha riassunto tutto quanto accaduto in questi ultimi giorni è un fatto di di bullismo sembra una cosa da niente un ragazzo ruba fa un dispetto sembra un ruba un capellino ad un compagno il ragazzo non è più un tanto ragazzo è un giovane ha vent'anni invece il ragazzino e ha molti anni di meno questo gli ruba il ragazzo e dice io non te lo ridò il cappellino perché non me lo ridai perché se lo rivuoi voglio cinque euro e a questo punto l'atto di bullismo deprecabile in sé acquista però un problema più serio è un ricatto un ricatto vero e proprio la vittima dunque lo denuncia e lo fa arrestare il ragazzino non ci sta soppruso del bullo va dai carabinieri e quindi i carabinieri hanno proceduto poi sono riusciti a identificare il giovane e lo hanno preso e quindi la questione è diventata molto molto più seria insomma veramente il bullismo è un fatto deprecabile che poi può finire come in questo caso in situazioni più serie e poi c'è stata una rissa a villa san martino che è stata poi placata dalle forze dell'ordine sabota l'auto della moglie per non mandarla al lavoro il marito ha imputato di maltrattamenti e anche di lesioni di fronte appunto al tribunale di pesa lente olivieri diventa custode del sacrificio di 12 studenti e la commemorazione fatta in occasione del 4 novembre nel giorno della unità nazionale le esposizioni delle lapidi commemorative di questi ragazzi morti in maniera appunto innocente sulla valle foglia macerata feltria vediamo che c'è un appello un'attestazione la clinica santo stefano è utile non solo per macerata ma anche per tutto il monte feltro rucceri ruggeri capogruppo del movimento 5 stelle sostiene la richiesta alla regione del sindaco arcangeli la tutela rivendicata anche per la rems l'istituto comprensivo sotto soglia di alunni urbino ladri i vandali colpiscono il centro di aggregazione e c'è stata anche un'incursione nella casa delle vigne ci sono stati danneggiamenti e un furto di una cassa stereo per un valore di circa 300 400 euro ferminiano ha ricordato monsignor federici ci sono state sono state organizzate iniziative come il tributo a 50 anni dalla morte del popolare sacerdote un parroco che lasciò segni e segnali indelebili a tutta la comunità insomma una commemorazione sentita per chi ha fatto del bene e veniamo anche alla pagina di fano la pagina di fano vediamo ancora in apertura il fuoco incrociato contro l'assessore tonelli lega e udc si aggiungono al coro che ieri hanno fatto il movimento a 5 stelle fratelli d'italia anche seri afferma la lega la criticata per l'ultimo bando mancato e poi un'iniziativa della lega ambiente di fano salva l'arte tre conferenze di sensibilizzazione per l'ambiente ma anche per la cultura la prima si terrà domani alle 17 e 30 nell'ex convento di sant'agostino nella sede dell'arteoclub due scogliere da completare fermiamo l'erosione marina e l'esortazione di andrea giuliani della confartigianato al comune di fano ed è alla regione per proteggere le spiagge giuliani dice se gli interventi fossero iniziati e terminati in una soluzione unica senza tante pause senza tanti intervalli si impedirebbe che l'erosione si insinui tra i varchi lasciati liberi dalle scogliere ed eroda la spiaggia vicina insomma danni che si potrebbero evitare ancora una dichiarazione di giampiero pedini che è in bilico tra le critiche alla maggioranza e l'adesione il sostegno a quest'ultima però dice ci sono cose che non vanno e sarebbero da rimediare a cartoceto ecco loro verde più qualità è un'offerta multisensoriale e invece per quanto riguarda mondolfo abbiamo il fatto di cronaca del ciclista sportivo in discesa che si è schiantato contro un'auto il conducente ha cercato di evitarlo veniva giù veloce è stato soccorso dall'eliambulanza e vediamo anche Senigallia a Senigallia si parla del giovane Mattia deceduto a 18 anni è stato piantato nel giardino della sua abitazione un olivo il padre ha dichiarato lui c'è ed è continua ad aiutarci ed è una delle sue vittime delle sei vittime della lanterna azzurra per la prossima ricorrenza ci sarà un concerto di band giovanili la prossima ricorrenza sarà l'otto dicembre quando sarà celebrata la giornata regionale per il divertimento in sicurezza abbiamo pochi minuti per parlare dello sport vediamo sul resto del carlino vis bruciati 550 biglietti cosumano chiama i tifosi con la capolista reggiana servirà personalità giocheremo per noi e per loro da oggi botteghini e punti vendita aperti a tutti settore ospiti in esaurimento per quanto riguarda il fanno calcio invece vediamo che la squadra si sta scatenando in vista del prossimo incontro ha portato a segno tre colpi ovvero tre acquisti Ricci Serafino e Anomu il centrocampista Perugino 22enne Ricci si è già svincolato dal Latina poi ci sono due giovani il centroavanti del Brindisi Serafino e l'ala destra del Casarano Anomu Ricci vanta tre stagioni in serie C speriamo insomma che possa rafforzare la compagine Granata VL serve continuità dai nostri terminali il vice allenatore Savignani sottolinea i problemi in attacco intanto ieri Banchi ha voluto una cena di squadra per fare gruppo e anche questo aiuta un po' la coesione e lo spirito di squadra sul Corriere Adriatico la vis va a caccia dell'impresona è certo che l'impegno di domenica è molto importante mentre il Fano batte tre colpi abbiamo visto come tesserati il centrocampista Ricci l'esterno offensivo Anomu e il centravanti Serafino ebbene era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 le notizie torneranno su Fano TV questa sera nel notiziario delle 20 e 30 buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti